Questo programma, è offerto da Grazie a tutti 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 Assessore ma lei non è iscritto a nessun social? Lei è social? No no, cara signorina, è proprio il contrario Gli asocial sono quelli che stanno troppo tempo sui social Per colpa degli asocial network la gente non si telefona più, non si incontra più La gente ora per cercare pure l'anima gemella la cerca sui social Cerca l'amore scorrendo le foto dei profili facebook come se dovessero scegliere un maglione su post al marchetta Ma trovare l'anima gemella su facebook è come trovare il compagno di un calzino in una lavatrice mentre fa la centrifuga Anche io sono anni che cerco in vano Ah, state cercando proprio l'anima gemella? Signorino, vera Silvia, e forse cercavate me? Ma no, non cerco l'anima gemella, stavo solo cercando il calzino che ho smarrito nella lavatrice Io ho trovato la soluzione Per trovare l'anima gemella? No, per trovare un calzino e un calzino Basta comprare calzini uguali, non si comprano più calzini uguali Le persone e i calzini troppo simili sono destinati a perdersi Dobbiamo comprare calzini tutti spaiati, così uno li può abbinare come capito, avete capito? Comunque, anche io penso che i social siano l'ultimo posto su cui cercare una fidanzata Signor Pugo, per lei è ancora più difficile E perché? Per lei è come far passare un cammello cieco con un momento sopra che va alla montagna Nella cruna di un'aca perso in un bagliato Ehi, addirittura A proposito di social e di anime gemella, stamattina è stato approvato a Comune di Napoli Un grande progetto dell'assessore liberato Don Comare Una grande ZTL per i single e pure per i single di ritorno, avete capito? Una grande ZTL da posillipo a mare chiara, dove non si prende internet Ma che pro? Non ho capito il senso È una grande ZTL in cui la gente si incontra per parlare e per conoscersi in 3D È una vera tristezza, tristezza, no? Vedere questa gente, queste coppiette a bar, al ristorante, uno di fronte all'altro che chattano Ognuno per i fatti sui, è vero, no? È certo, è tristissimo Si deve tornare all'antica arte dello struscio, caro Gianni e caro Pugo Le famose vasche, vi ricordate? Quando ero giovane, i fini settimane, mi faceva 300-400 volte queste strade A salire e a scendere, a salire a piedi, fin quando non incontravo qualcuno che mi piaceva E così ho conosciuto mia moglie, tra l'altro Ah, ma quindi è stato un colpo di fulmine No, mi ha pegliato la stanchezza veramente, caro Pugo, perché quando l'ho incrociata io E mi ero fatto già 350 vasche, avanti di... Mi fermai vicino a una panchina E lei pensava che mi ero fermata per farle la posteggia E invece? Fece tutto lei Sono 10 anni che ci siamo sposati e non mi ha dato mai il cansa di parlare Avete capito? E io glielo voglio dire, che mi ero fermata perché tenevo l'affanno, ecco E vabbè, ma qualche momento di affanno capita in tutte le coppie Caro Gianni e caro Pugo, fatti poco con lo spirito d'uso Che, 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 altrimenti, lo sapete che faccio? Che faccio? Che faccio una ZTL sotto al palazzo, vabbè, non che faccio uscire più di casa Comunque il mio progetto, eh, il mio progetto lo sto portando avanti Ogni fine settimana, ogni fine settimana nella ZTL dell'amore Si fidanzeranno come minimo 200-300 mila coppiette Ehi, addirittura 200-300 mila, detto bene A proposito, in provincia hanno creato un parco dell'amore In cui i ragazzi lo possono fare in maniera sicura Qui a Napoli si vedono troppe coppie nelle corsie di emergenza della tangenziale Quella è, 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 così è nata la famosa canzone della Pausine Quale canzone? È un'emergenza d'amore, avete mai sentito quella canzone? Certo Bellissimo È un'emergenza d'amore, lei pure è costretta a fare l'amore sempre sulle corsie di emergenza Pure la Pausine E allora l'assessore Liberato Lugumare che ha pensato? Che ha pensato? Che ha pensato? Altro grande progetto Solo per i giovani che mi hanno votato Gli altri si arrangiano Se ne vanno nei modelli tristi Apro una grande trevinna Un grande trevinna al parco della rimembranza Così Lo dicevano pure in latino Ma non dicevano proprio così Non so se siete pratico di latino Ma non dicevano così Neanche io sono pratico di latino Comunque bisogna fare una derattizzazione istituzionale Caro Gianni e caro Buca È una vergogna Io mi rimetto da italiano Ma vi devo saldare Non mi dite niente Anche a lei signorino Maria Silvio Ma dove va? Mi venga a trovare qualche volta La faccio visitare la ZTL del lavoro La faccio trovare Venite, venite a trovare la mia Venite a visitare Venite a visitare Arrivederci Arrivederci Avvocato Quella di dire a Vespa Che stavano arrivando i vigili Nella scorsa puntata Mi creda È stato proprio un esempio Di sana cazzimma Si può dire? È certo che si può dire Guarda ma a volte un po' di sana cazzimma ci vuole Ma solo la cazzimma di difesa Non quella d'attacco Sì perché A parte che sta diventando una seccatura Che questo ogni giorno Viene fin qui a propinarci Plastici di disgrazie Dallo scoglione della concordia Al coglione del figlio di Bossi Ma non è giusto Questa discriminazione tra lui E i tanti ambulanti di colore Che vengono bistrattati Non è giusto Compa Ma che è questo? Io sono Vespa Meravigliato dal Brasil Tu conosci Brasil? Tu conosci Brasil? La 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 Io tengo il soprammobilato a prezzo buono Ma che tipo di soprammobili? A parte che la canzone prima Non era manco brasiliana No lo so Non sono solo un cantante ma ho un plastichino di disgrazione mondiale tengo il plastichino della Grecia tu prendi tre isole e paga due io regalo pure isole a famosi ma no in Grecia noi vogliamo andarci in vacanza le isole greche vogliamo che restino i greci noi speriamo risolvano diversamente i loro problemi chiaramente tu compri isole greche e fitta tedeschi per villeggiatura tutto affare affare ma no Vespa è inutile che sei pernacchiato così l'abbiamo riconosciuta subito ma lei non può sempre speculare sui quali della gente non si fa in televisione non si fa a televisione in questo modo mi ha riconosciuto certo però la televisione è quello che la gente vuole vedere la gente vuole vedere approfondimenti sulla disgrazia e sui delitti il plastico più venduto è stato quello della disgrazia e della concordia la gente si faceva le foto con la concordia sullo sfondo io non sono cattivo è che mi disegnano così da una parte ha ragione la tv la fa l'audience se la gente la smettesse di guardare certi programmi verrebbero cancellati immediatamente io ce l'ho pure i plastici degli avvenimenti belli non si vendono figuratevi che il plastico è il matrimonio fra Carlo e Camilla ne avessi venduto uno e stavano pure in saldo perché l'ha fatto uno scultore d'altorico pensate che al posto di Camilla ci ha messo il cavallo vestito da sposa per dire fra di noi stava anche meglio ma niente non ho venduto nemmeno uno ma mi interessa a voi? questo di Carlo che si sposa il cavallo mi piace assai a voi e allora per 5 euro dopo il plastico della collezione di cappellini della regina Elisabetta anche stasera signori miei abbiamo portato la pagnotta a casa ringrazio il pubblico che ci ha consentito questo nuovo record di ascolti e anche stasera signori il 99% di Shell e tutti sanno che l'altro 1% sono tutti amici dei Latte Filippi buonasera comunque come brasiliano è poco credibile sembra più un brasiliano di bagliato mizia ma si ma poi ha cantato Singing in the Ring si c'entra ormai sono settimane che studiamo quello che fanno tre personaggi che dicono di essere santi San Giorgio a Cremano San Giovanni a Teduccio e San Pietro a Patierno l'impressione è che lo siano ma spesso l'abito non fa il monaco abbiamo scoperto che due di loro hanno diversi fake e che l'altro manco è uno stingo di santo ma noi stiamo cercando di scoprire se la loro è pura goliardia o se hanno scheletri negli armati e stanno in paradiso per sbaglio se voi avete scoperto qualche fake qualche strafake ossia qualche strafigo ferlocco e gli volete organizzare uno scherzo scriveteci sulla nostra pagina strafake e ci pensiamo noi noi abbiamo appena organizzato uno scherzo a tre santi che a occhio e croce sono tre fake mi hai scritto un'altra volta Santa Mazzoccola mamma mia mi hai dato appuntamento ma a me non mi piace dire l'appuntamento al buio e tra l'altro io sono un santuovo ho fatto pur vuoto di castità mamma mia mamma mia però la curiosità è maschia e voi lo sapete a crema? a crema e tu che ci fai qui? io ho un appuntamento piuttosto tu che ci fai qua? e io pure tengo un appuntamento sta arrivando pure a te duccio a te tu? a te tu ma che ci fai qua? veramente la verità propria io terrei un mezzo appuntamento allora questa è una casa di appuntamenti ma Bascia stava chiuso? no ci hanno portato in una casa chiusa a noi tre santi uomini mamma santa eppure io tenevo un appuntamento con una santa donna ma aspettate un momento ma voi vedete che questa santa donna è la stessa che era d'appuntamento a tutti i tre santa mazzoccola e beh a questo punto qua mi tiene il dubbio io non so più se è santa, se è zoccola o tutte e due le cose ma certo è che non è facile capire e quello però su facebook così si è registrata santa mazzoccola ma va a prendersi e per scelta sua o per scelta di qualcun'altro a proposito l'unica cosa certa sapete qual è? è che hanno avuto in un bidone tutte e tre i santi uomini tutti uguali siete divertitevi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia ci hanno visto ma no è stato santa lucia se no quei facciamo una cosa mo c'ho visto sui numeri però non ce li possiamo giocare perchè gli ammi fretta giocateveli voi fuori 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 ma visto che ormai siamo agli arresti domiciliari vogliamo chiamare mcmaren's per farci portare qualcosa a domicilio che ne dici? ottima idea non è per mancanza di fiducia ma tra te, Marianna e Mila non siete in grado di fare un piatto di spaghetti ieri abbiamo dato gli avanzi a Pippo Bao mi ha guardato in cagnisco e mi ha detto ma anche i cani ma non è vero certo che è vero secondo me avete bisogno ancora di qualche lezione dalla signora Dalvascio e vabbè vediamo cosa sto preparando buonasera signora Nennela anche questa sera il locale è pieno ma perché non pensa ad adibire una parte del locale per l'ape? ehi signorini io ho iniziato con l'ape io vendevo zeppole e panzarotti giravo con il tre rote ma no l'ape sarebbe l'aperitivo per pasti frugali in piedi a Milano va di moda no sentite io sono contraria a queste scene in piedi una volta andai a un battesimo ci stava questo fatto del buffet ho tempo che pigliai la bruschetta con creature si è fatto pure la comunione no per carità sul libro addirittura ho letto che il buffet ha modificato geneticamente il corpo dell'uomo ah si? si perché addirittura fa il cosiddetto fisico da buffet pensa te come sarebbe il fisico da buffet? l'uomo che c'è il fisico da buffet lo riconoscete subito perché innanzitutto c'ha i gomiti appuntiti e poi posizionato così vedete a 120 gradi perché quello serve per scalare le posizioni in avanti e per evitare sorpassi dalle retrovie l'uomo buffet ha le spalle larghe un metro e mezzo è perché quelli vanno a fare allenamenti in palestra c'è una macchina adatta per queste cose si chiama macchina da buffet allora mi sa che io non ce l'ho il fisico da buffet i quadricipiti sono modello brontosauro per resistere agli scossoni che provengono lateralmente la mano lesta come un borseggiatore da tram perché quella è una questione di secondi e poi dovete sapere che tenono uo cuo come quello di una giraffe perché devono vedere addosso alle babà e le gambe come devono essere? le mie vanno bene signori le gambe devono essere dritte perché quelli che tengono le cosce a cufaniello si fanno fare i tunnel dai modelli tipo brunetti perché ci passano per sotto ha ragione ha ragione purtroppo questi avezzia e buffet non si accontentano di farsi un piatto normale loro devono fare la provvista per tutto il mese esatto la settimana scorsa sono andata a un matrimonio sentiva uno che gridava vittoria vittoria ho detto scusate cari da vingiuta quello niente vittoria vittoria per me cozzo e gelato ostrica e babà e alla costa e macedonia è vero ad una festa ho visto uno che nello stesso piatto aveva messo calamari ananas bignè e profiteron guardate e poi avete mai pensato di tagliare una melanzana sott'olio in piedi ecco la frucchetta di plastica guardate quando sono stata a capo ho conosciuto una persona ma aveva una bella camicia tutta piena di schizzi ho detto scommetto che questo è un capolavoro del grande maestro rendi vuoto ha detto no chi sta nel capolavoro di mia moglie e col dito mi indicava macchie di ragù parmigiano amulignano mozzarella e cioccolato vabbè ho capito niente buffet Nenela che cosa mangiamo questa sera? stasera ci mangiamo una bella vellutata di cipolla e di tropea su mezze maniche trafilate a brunzo con pensetti di lacerto condite con olio extravergine di oliva sale e pepe e una spolverata di parmigiano questa la so la genopese oh vero si si ma tu cosa sai? cosa fai a genopese tu? Nenela l'ho letto sulla ricetta vabbè visto che a Gianni la genopese non piace ce la mangiamo noi ciao ciao sono arrivate molte mail sulla nostra pagina facebook i nostri telespettatori ci chiedono il costo di un intervento di chirurgia photoshopica per la verità abbiamo fatto una convenzione con il dottor strafake per i nostri telespettatori il 50% su qualsiasi intervento di chirurgia photoshopica ah beh se siamo in convenzione e ci fa lo sconto magari un ritocchino potrei anche pensare di farlo dove credi potrebbe essere necessario intervenire? solo sulla lingua eduardo direbbe che sei troppo rispustera in ogni caso io mi rifiuto di parlare con il dottor strafecca è per colpa sua che ogni giorno mi contattano decine di sfigati nascosti dietro foto da improbabili strafighi ci parli lei con il chirurgo photoshopico ciao ciao ma dove vai? buonasera buonasera molti clienti ci chiedono a che punto sono i suoi studi per poter effettuare tali tipi di interventi anche nella realtà anche perché molti sono autoconvinti di essere i loro stessi fake sì è una crisi di identità che noi chiamiamo assoluta e totale in pratica lo strafighi può vivere questa situazione paradossale di sentirsi uno strafighi strafico che è una situazione particolare questo capita moltissimo eh? sì strafighi 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 insomma la conclusione è che in ogni caso sono fuori fuori di testa come un balcone professore vuole dare un consiglio ai vari strafighi pensa possa essere più felice uno strafighi che contatta solo sui colleghi strafighi oppure pensa che gli strafighi possono anche interagire con le persone normali ma io consiglio agli strafighi di cimentarsi maggiormente con quelli normali perché tra strafighi possono succedere delle cose un poco strane talvolta si può avere quello che è chiamato così in termini così tecnici lo strascino mediatico perché uno strafighi comincia a pigliare per i capelli diciamo l'altro strafighi e quindi lo strascina diciamo sul computer ma a me è venuto un dubbio ma lei quanti fake ha? pochi attualmente li ho ridotti molti non 1028 1028 addirittura allora noi salutiamo tutti i 1028 i profili del dottor strafighi e la salutiamo ci rivediamo alla prossima alla prossima di nuovo avvocato sia bene e venga allo studio ogni tanto venga venga settimana prossima vengo sicuro va bene lo aspetto nella scorsa puntata abbiamo assistito ad una scena davvero agghiacciante per quanto il personaggio in questione ci sia cordialmente antipatico vederlo telefonare a Vespa all'Adurso e a Quinta Colonna per essere intervistato inquieta mi fa quasi tenerezza ma non fanno più audience che le trasmissioni senza killer senza guai? io vorrei fare una puntata in cui invitare Vespa Gilletti l'Adurso sottile per farli vecare un po' guarda Gianni Chieschettino sembra proprio averti sentito visto il calo delle interviste degli ultimi tempi provvisoriamente mi sta lavorando come animatore su una nave da crociera alzo in alto la mano sono io il capitano un modo lento il bacino ma caffina vatti Schettino Schettino siamo della tv ah siete di Mediaset si e ma quando mi date con l'esclusiva? ma no siamo sempre noi di strafake noi le diamo un euro come al solito guardi che io sulla nave da crociera la vedo meglio a fare l'animatore che a guidarla ma vedo che state organizzando una festa si ho organizzato in realtà una festa per far divagare degli amici che soffrono mi sembra niente far trasmissione tutti i giorni a parlare di omicidio tragedie a intervistare parenti dei morti dei kill organizzare incontri casuali con i testimoni per stasera ho invitato Salvo Sottile Bruno Vespa la Barbara D'Urso Massimo Giretti e tutti i oratori e pure gli invitati e come è strutturata la crociera? è una crociera solo per persone tristi signori alle quali cercheremo di regalare a me un sorriso quelle già allegri non le facciamo proprio salire ci sarà Giletti che fa il karaoke con la mimetica e canterà le canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones e di Gianni Moran accompagnate da un corpo di ballari e di di mene vietnamita la D'Urso fa un numero che i coccodrillo ha maestrato Vespa farei i plastici delle barzellette e Sottile dovrà scoprire di quali barzellette si tratta e interrogare i plastici fantastico a me in particolare incuriosisce il numero della D'Urso con i coccodrilli in pratica fanno pianto sincronizzato sulle note di Bobbi Solo la gente si vuole divagare non ci fa più a vedere i programmi i disgrazi poi li mettiamo a condurre questi che già sono una disgrazia di base questi marcano proprio la peste figuratevi che quando li vedi il mio caltonire signori si gratta ho detto tutto e su questo scoop restituisco la linea allo scuro Fuffi ferma ti stai sceppando tutta quanta basta non ti grattare Fuffi Avvocato a me dispiace se la sbarcano su un'isola ma fino ad ora nessuna tra le tre conduttrici inviate ha avuto una sola nomination i telespettatori hanno nominato tutti lei e se continua così alla fine non ci sarà neanche bisogno di ballottaggio infatti sto vincendo per distacco ma è chiaro che non hanno capito il regolamento l'autore non era previsto tra i nominabili beh ma in Italia la gente si sa non è mai stata molto avvezza al voto vediamo vediamo Maria Silvia Malbone Mariana Vertola o Mila Locca niente di nuovo Gianni Pucca il nostro avvocato facciamo anche vedere ma non si legge niente vabbè si fidi quasi quasi mi auto elimino e mi vado a vedere Refort buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Refort rotocalco di informazione disinformazione e disinformazione noi facciamo informazione a 90 gradi e disinformazione a 360 o una roba del genere calcolatevi una media ma che fa dai numeri? noi diamo solo i numeri che la scienza ci fornisce oggi parleremo di inquinamento atmosferico di test taroccati dalla Volkswagen e di faccioli con le cotiche ma no pure i fagioli con le cotiche ora cosa le hanno fatto i fagioli sentiamo? l'OMS ha scoperto che i controlli sulle emissioni di gas nocivi nell'aria a seguito di assunzioni di paste e fagioli con le cotiche sono stati storicamente falsati da ingegneri ambientali partenopei ma che dice? ma che dice? sì certo che sono notoriamente dei grandi consumatori di fagioli con le cotiche ma cosa dice? ma che bisogno c'era di farciare i test sui fagioli con le cotiche? come al solito state cercando di spostare il problema noi i problemi non li spostiamo li segnaliamo al massimo e in ogni caso daremo il diritto di replica ad ogni singola cotica l'equivalente italiano di una Volkswagen senza marmitta catalitica ma non vedo il nesso noi abbiamo provato ad informarvi i napoletani continuano ad ignorare la necessità delle cotiche a metano e dei fagioli catalitici ma non si sono mai sentite le cotiche a metano e neppure i fagioli catalitici e in ogni caso abbiamo sottolineato la necessità di tenere divisi due elementi che quando si uniscono scatenano reazioni chimiche devastanti con conseguente inquinamento atmosferico e acustico Ghebbatelli lei come al solito lancia il problema senza fornire soluzioni la soluzione c'è e quale sarebbe? eh certo, solo che i napoletani si rifiutano di utilizzare biancheria intima ecologica le famose mutande verdi Euro 6 che usano quelli della Lega mutande con filtro antiparticolato che sono a basse emissioni di CO2 guardi il tema di oggi è più fastidioso del solito quindi io cambio canale anzi a mai più rivederla e Maria De Filippi? no, non siamo Maria De Filippi è inutile che ci prova a convincerci non ci siamo Maria De Filippi siamo quelli di strafake ma è possibile che state sempre qua? ma non è non è niente che l'avvocato ci ha messo un po' quel pensiero? signor, lo sto ancora valutando sono decisioni difficili da prendere queste piuttosto, lei ha trovato il suo principe azzurro? non tocchiamo questo tasto indolente proprio ieri ho provato, insomma, quest'ultima frontiera degli appuntamenti lo speed date e che sarebbe su speed date? ecco, come si dice sono quegli incontri che si fanno a tavolino dove hai un minuto e mezzo per presentarti scambiarti il numero dopodichè suona il campanello e devi cambiare il tavolino e anche il compagno e com'è andato? come è andata? una chiavica ah perfetto ogni volta che dicevo sono memma plurivedova semi usata si ravanavano e se ne andavano e come possiamo dargli torto? avvocato lei lo sa la mia porta per lei è sempre aperta signore la ringrazio ma per carità chiuda la porta che fa corrente ho appena avuto la febbre in questi giorni ho avuto un mal di testa così forte che ho vinto occhi senza frontiere e non me ne parli io stasera giusto appunto vado a festeggiare la festa di Howlin con delle mie amiche ma Halloween è già passato? ma qual è Halloween? la festa di Howlin ah la festa di Howlin ma da che cosa si traveste? e mi traverso da colpo della strega ah molto originale comunque siete sempre una televisione no? sempre sempre e io posso fare il mio solito annuncio? sempre non si sa mai magari è la volta buona che vai a buon fine no? la televisione è tutta sua ah 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 plurivedova semi usata cerca milionario scapolo anche se in cattivo stato per matrimonio lambo chilometri zero a stenersi per di tempo non telefonare di mercoledì perché c'ho il lifting ai gomiti mai visto il lifting ai gomiti comunque vabbè non la chiamiamo in quelle ore e ogni tanto il tagliandolo dobbiamo fare ah va bene arrivederci la signora arrivederci in bocca al lupo regia ma almeno posso uscire fuori a spostare la macchina l'avevo lasciata in divieto qualche settimana fa prima di entrare qui dentro e non vorrei che mi facessero qualche multa ma per caso è quella toyota che stava proprio qua fuori sotto al cartello rimozione carro gru? ah quel segnale significava rimozione carro gru pensavo fosse un divieto di impennare comunque tutto a posto se l'ho presa il carro a trezzo più di un mese fa ma faremo ricorso ah 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 ma che bella cartella sartoriale fresca fresca io ho appena fiuscita su misura per un'automobilista indisciplinata aveva lasciato la macchina sotto al cartello rimozione carro gru per settimana intera ehi le hanno messo la bellezza di 36 multe ma niente io la signorina manco la spostava ah 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 e qua tra sanzioni, interessi e taggi andiamo a finire a mille e una notte seppure si vende la macchina non ce la fa non signore e questa volta si riscuote eh si riscuote ho fatto una verifica la macchina appartiene ad una nota conduttrice eh eh lavora alla radio e in tv la signorina questa tiene il formaggio ah 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 e io ora posso azzannare finalmente mi hanno messo a posto la dentiere guardate qua io adesso vengo dal mio dentista voi lo sapete voi lo sapete con i soldi della malvone io mi pago il dentista e mi aggiusto la dentiera io sono sempre stato buono sempre buono con chi ha bisogno ma questa minimo minimo guadagna come i giletti anzi per me è pure meglio di giletti dovrebbe guadagnare pure di più eh eh o comunque io lo spero per lei perché appava sta cartella veramente ha datene minimo minimo i soldi ai giletti noi vediamo un poco attraverso il nostro nuovo sito sistema per il controllo delle ricchezze dei contribuenti se oggi sgabiamo qualcuno vediamo un attimo se riusciamo a individuare qualcuno oh eccolo la signora Albini lei è inutile che si nasconde dietro al frigorifero eh e neppure dentro vi ho visto che avete nascosto i soldi nel congelatore ah 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 da oggi anche i risparmi a nero sono tassati se riusciamo a cogliere l'infragranza nella legge di stabilità hanno appena messo una black tax la tasse sul lavoro a nero sì signore eh eh oh oh signor panico niente panico mi raccomando dobbiamo fare un piccolo prelievo ma su su non fate il ridicolo è inutile che vi nascondete dietro un dito vi vedo ah 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 diventate socio alice così quando noi di equidracula vi facciamo il prelievo vi diamo pure il succo di frutta e la merendina signora Tussi signora Tussi che buon profumo si sente mmm addirittura riesco a percepirlo da qui con le mie narici quasi quasi stasera la vengo a trovare eh per mettere a suo agio le abbono tutti gli agi della cartella eh ma cosa ha cucinato cosa ha cucinato ah 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 zucchine alla scapece eh ma 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 nelle zucchine alla scapece ci sta l'aglio no no l'aglio no l'aglio nooo no ma davvero credo che prima o poi smetterò di leggere i giornali non ci posso credere che si arrivi ad offrire 500 euro ai diciottenni per accaparrarsi nel voto ma che scherziamo mi ha fatto rivalutare l'innominabile almeno lui i soldi alle diciottenne gli dava di tasca sua e dava molto di più ho apprezzato di più gli 8 euro simbolici in più le forze dell'ordine magari giocano la schedina e vincono no ma comunque io mi dimetto da italiana io me ne vado ma dove vai? mi lasci te una da solo lo sai che non so condurre che faccio se viene qualche ospite? ciao ciao Matteo 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 ma dove sei Matteo è pronto a tavola ti ho preparato la ragostina che ti piace tanto il pesce ti fa bene contiene fosforo e tu hai bisogno di fosforo avevi promesso che l'aumentavi la pensione a zia leopolda tua eh? non l'ho mica visto l'aumento io non te lo do il voto eh? ho fatto un sondaggio tra le mie compagne di Hanasta metà di loro prende meno di 1000 euro di pensione la maggior parte hampa o meno di 500 euro al mese ma è ma frittellata ma mi dica lei o mi si hampa o meno di 500 euro al mese? signora leopoldo ma se le ha promesso che gliela aumenta gliela aumenta no? è proprio perché l'ha promesso che son preoccupata lei un lo conosce da bambino 100 ne pensava e uno ne faceva ah eccolo là quel bischierino Matteo ma dove vai? Matteo ma cosa fai? Matteo la fantasia è solo una bugia Avvocato ci sono giunti in redazione migliaia di lettere di telespettatori che si lamentano del fatto che in molti talk show soprattutto sportivi ci sono opinionisti che si dopano la cosa strana è che arrivino migliaia di mail sebbene ci seguono in media in 3 o 4 è vero infatti non mi trovo con i conti eh manco io comunque bisogna parlare con Nippolo secondo me ce l'avevano anche un po' con lui oltre che con quelli che dicono che amoruso è più forte di Higuain Nippolo Nippolo hai sentito stanno parlando di te hanno saputo che ti dopi ha mi dopavo adesso non mi dopo più non mi dopo più lo faccio per i miei figli sono fuori da tunnel sono divertimento non mi dopo più non mi dopo lo faccio per i miei figli i miei figli mi hanno detto i più grandi per papà mi hanno detto papà non ti dopare più io non mi sono dopato più perché mia moglie me lo scordavo sullo stadio in media ma non per cattiveria è perché i neuroni non si avevano fatte proprio ai popilli capito no allora per questo ma adesso non più Nicolo sono veramente felice per te sarai ad esempio ai tanti giovani che si dopano anche solo per competizioni ciclistiche amatoriali non vi dopate non vi dopate più fate come me se vi dovete dopare dopatevi solo con Marenne ufficiale del calcio Napoli il nostro sponsor sapete qual è? McMarians solo Marenne ufficiale del calcio Napoli e per queste trasferte in Europa League che Marenne consiglieresti Nicolo? partite importanti in Europa clima freddo freddo cane è vero Pippo Pau ha detto sì freddo cane quindi una Marenna sostanziosa io propongo una Marenna tridente mettiamo melenzane buttiamo melenzane e parmigiana da un lato possiamo mettere cotolette e peperoni dall'altro lato e giusto accendere sasizzi e friariella una cosetta e come si fa a mangiarla? i dilettanti se la mangiano a flauto sbaglio perché la Marenna non va mangiata in questa posizione perché al momento opportuno il sasizio che fa? scivola scende dalle parte basse e va a finire nel fossato tu non sai quanti sasizzi e friariella sono stati trovati nel fossato le reperti addirittura di Vinicio quando giocava e Vinicio a Napoli sono reperti storici la Marenna va mangiata ad armonica così in questa posizione hai capito? va bene senti Nippo alcuni nostri telespettatori hanno chiesto di sapere chi sarà il capo cannoniere ci vogliamo collegare con la buonanima del Polpopol per vedere cosa ci dice? è che vabbè vogliamo contattarlo chiamiamolo è una formalità lo vogliamo chiamare? vai è una formalità chiamiamolo insieme facciamo la catina non tirare la catina no 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 Polpopol 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 vi dico solo che non sarà dell'Inter non sarà della Roma non sarà della Juventus non sarà della Lazio non sarà Polpopol 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 è affogato un'altra volta si ha messo un'altra volta il limone ho detto mille volte non metteteci il limone che è allergico è come il doping per lui va bene andiamo per esclusione speriamo di vedere insigne di Guain insieme come capocannonieri tra i personaggi con i quali interagiamo quotidianamente una di quelle che riscuote più consensi è la casalinga bionica anche perché molte donne si rivedono in lei nelle sue battaglie per il riconoscimento dei diritti delle casalinghe io ancora non mi spiego come mai nessun governo abbia mai pensato di dare almeno uno stipendio minimo alle casalinghe nonostante svolgano un ruolo fondamentale per la società allevare i figli ed educare dei bambini è una funzione che equivale a quella dell'insegnamento nelle scuole anche se auspichiamo che le casalinghe abbiano un trattamento migliore di quello che hanno attualmente gli insegnanti ai quali pure auguriamo un futuro meno precario può sembrare un paradosso che una casalinga seppur bionica si prenda cura di tutti questi supereroi ma nella realtà le donne hanno superpoteri che pure i protagonisti di fumetti e cartoni si sognano a proposito vediamo cosa sta combinando la nostra casalinga bionica ma quali supereroi? questi anche se hanno una certa età sono dei bamboccioni sono... come si dice che è la parola? sono ciussi io ma non lo so che significa precisamente ciussi ma quelli sono proprio ciussi ma come Wonder Woman? usa termine che non conosce? eh lo sentite in televisione qui dentro l'unico che prova a darsi un po' da fare è Clark Kent ancora una rubrica sul mattino che si chiama il buongiorno si vede dal mattino è un giornalista precario Batman invece va bigliano sulla mente e multe che ha Batmobile, Fotored, autovelox ma quando arriva nei verbali dice che non è sadista e beh a volte ci sono casi targhe clonate potrebbe essere stato uno scherzo di Penguin o di Joker ma qua Joker e Penguin sono andate ai vigili dalle foto si vedono lui e Killukretin e Robin sono mise pure in bosa per farsi fotografare dal Fotored mentre passano con Rus e vogliamo parlare dell'uomo ragno ha fatto il ragno a te ma ancora non prende la via di sistemarsi ma guardi oggi non è facile trovare la donna giusta eh il lavoro non è facile da trovare la donna giusta non è facile da trovare e al finale stanno tutti quanti qua e cambiano un coppio di spalla mia nooo ma io voglio parlare con l'autore una volta i fumetti tenevano un lieto fine a me mi hanno fatto fare fine generente ma ora senza offese eh io me lo scrivo solo da solo un fumetto ma si immagina se ora tutti i personaggi dei fumetti si scrivono storie da soli ma forse non ci sono più gli autori di una volta è meglio che le storie ce le scriviamo da soli io non lo volevo Capitano America io lo sapevo che facevo una cattiva riuscita e infatti così è stato ma non pretendevo nemmeno io ero principe azzurra io mi ha condivido un onesto lavoratore mi stava bene pure uno dei sette nani almeno che la fine mese portavano stipendi a casa guardi che il proverbio dice supereroi e bui dei cartoni tuoi eh i bui dei cartoni tuoi? eh questo è già fatto ma alla fine le corna le tengo io non ci posso pensare quello mi ha tradito con quella gatta morta di Catwoman ma se la chiappa ci faccio lo strascino per tutti i fumetti ma voi guardate come sono ridotta sto così esaurita che sto fumando a mezz'ora e non mi sono accorto che la sigaretta è stutata ma io non ce la faccio Avvocato ho letto che ormai sono quasi più le separazioni che i matrimoni dopo Albano e Romina addirittura si separano Renzo e Lucia anche a molte amiche mie è capitato che dopo anni di matrimonio cervello e cuore non desideravano più la stessa cosa lei solitamente ascolta più il cervello o più il cuore? quando cervello e cuore non sono d'accordo bisogna ascoltare il figato non riesco mai a capire quando lei parla seriamente e quando no comunque sono curiosa di sentire come va a finire la separazione tra Renzo e Lucia i promessi divorziati va pronto? va pronto? si 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 signora mamma ortadella mamma mondella domani c'è la vostra cacà 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 causa di risparazione separazione Voi come testimoni mi avete dato l'innamorata, volevo dire l'innominato, ma giù 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 giustamente, l'ufficiale giudiziale, un ladro, non si può ciacciatare un innominato. Giù 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 gi Tutti i vicini hanno detto chi è coco, chi è coco, chi è coco stui e l'hanno mandato il pomerolo, l'hanno pigliato a male parole, questa gente non tiene educazione, signora, non lo facceranno con il mio padre, volevo dire, non consiglio prima che ho parlato, noi teniamo la crisi, a crisi, braviamo, teniamo la lista per il mio testimone, teniamo la lista come testimone, sta tutta l'estate su una campanella, sta tutta l'Astonia a campanella, si si, si signora, non siete frigida, la damella sta a cerasella ogni tanto, non siete rigida, calmatele sta a cerasella ogni tanto, state tranquilli, state tranquilli, ma questa arruzza, mi chiamiamo la Monica di Muzza, faccio parla di marmellata, faccio parla con un ammurato, con gli nominati, stava di bene, stava di bene, mi chiamiamo bene, faccio parla, una tazza e il caffè, così mi accorgia la lingua. Gianni scusa ma non si potrebbe fare un cambio turno? In che senso? Per poi un po' far fare a Maria TV il turno di notte, oppure a Maria Anna, e io faccio l'inviata social, almeno lei ogni tanto esce, prende un po' d'aria, io non ce la faccio più a stare rinchiuso qua dentro. Hai ragione, hai ragione, parlerò con il cavo del personale, tra l'altro di notte si incontrano tutti i personaggi più strani in TV. Tra l'altro io ho famiglia, a proposito posso salutare la mia famiglia? E certo. Ciao famiglia. Salam kebabali babà, salam kebabali babà kalla yaka yalla. Scusi signor sterronista, io so che lei è mezzo italiano, perché non si sforza di parlare magari un po' più la nostra lingua? Salam kebabali babà kalla yaka yalla. Dice che si capisce solo quando parla il terroristese che l'italiano. Prima stava cercando di dire che qui a Napoli ci sta troppo traffico, tutti vanno in giro con le macchine, anche quando non devono fare un cazzo. Vabbè, io non guido nemmeno la patente e prendo solo mezzi pubblici. Salam kebabali babà kalla yaka yalla. Dovete pensare che eri sera dovevamo fare un'attentata al maschio e un gioito, c'era un concerto. Qui siamo rimasti bloccati tre ore nel traffico in via Maria. Per quanto siamo arrivati non ci stava più nessuno. Ecco. Per fortuna, meno male. Vabbè, signor terronista vuole fare un comunicato agli italiani o agli automobilisti? Ma schiatterrota! Ma schiatterrota! Mettono a disposizione docce per consentire loro di lavarsi, quotidianamente avere una condizione dignitosa. Nel vicino centro di accoglienza di Mangano, sempre i camigliani, ospitano ragazzi neurolisi. Con l'aiuto di volontari realizzano delle vere e proprie opere d'arte, con materiali poveri ma che diventano preziosi, per l'amore con il quale vengono lavorati. Nel vedere la passione di questi ragazzi e la riconoscenza che hanno per chi si prende cura di loro, fa soggere forte il dubbio sul fatto che i disabili siano loro. Questi centri esistono per davvero anche in altre città d'Italia. Datecene notizia in modo che anche noi possiamo poi darvi notizia. Scriveteci e aggiornateci sulla nostra pagina Facebook Strafik. Tigla! Pagina! 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 Drin, 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 drin. Shadows are hanging, folders are fighting, don't boo in the sky, because boomerangus. vou len rech сложно isang toi. One more happy, yet one more happy, yet one more happy, yet one more happy, yet one more happy of me. Palink,ublic! Drink, drink and drop try. Drink, drink and drop try. Drink then drink then drive. C'è la tua C'è la tua C'è la tua C'è la tua